Sono giorni che sui social, TikTok in particolare, si parla di Gerardina Trovato. La cantante, nota specialmente negli anni 90, è tornata alla ribalta dopo il filmato di un utente che chiedeva di, ri, darle il giusto spazio nel panorama musicale italiano, specialmente dopo le difficoltà che Gerardina ha dovuto affrontare. In tanti, tantissimi utenti si sono uniti per aiutarla. Come? Diffondendo i suoi video mentre canta, cercando di coinvolgere etichette discografiche, radio e altri colleghi. Ma anche donando dei soldi. O almeno questo è quanto è stato riportato da Gerardina stessa. Ecco, su quest'ultimo punto ha deciso di intervenire per fare chiarezza. Ecco cosa ha detto in un video pubblicato su TikTok nella giornata di domenica 18 agosto. Sono di nuovo Gerardina Trovato, le parole della cantante siciliana, oggi 57 anni. Io volevo solamente dirvi che a me serve la vostra forza, non i vostri soldi. Quindi qualunque raccolto fondi fate io vi ringrazio ma la mia fortuna me la farò insieme a voi. Grazie. Ciao. Poi, nella didascalia che accompagna il filmato, ha anche aggiunto, attenzione, non inviate soldi a nessuno, raccolte fondi e persone che fignono di essere me, grazie a tutti. Gossip Time vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto. Grazie.